Domenica 25 settembre, dalle ore 22.45, segui la diretta della Maratona Elettorale di Rete 8 in collaborazione con il quotidiano Il Centro. Conduce il direttore Carmine Perantuono con i collegamenti in diretta dei nostri inviati, commenti a caldo, interviste, ospiti, aggiornamenti in tempo reale dai seggi e dai comitati elettorali. La Maratona Elettorale di Rete 8 in collaborazione con il Centro, in diretta sul canale 10 del Digitale Terrestre ed in streaming sul sito www.rete8.it. I risultati delle elezioni politiche 2022 in diretta non stop su Rete 8.